Ciao Aiu, io mi chiamo Dila, vengo da Napoli e faccio questo video per suggerirvi il canale di Luca Dorea Ranzani Aiu è un ragazzo che fa interviste, ha collaborato con Ernia, Gali Aiu è un ragazzo che dà supporto e giustamente dobbiamo dare di supporto Mi raccomando Aiu seguitelo in tanti perché è un ragazzo che è fortissimo veramente Lo conosco da tantissimo tempo Lo conosco veramente da anni, forse da quando ho iniziato a fare rap anch'io E' un ragazzo che ha un cuore d'oro, aiu, ha un cuore d'oro, è fortissimo Proprio a livello di umanità, aiu, è forte proprio Quindi mi raccomando Aiu, seguitelo in tanti Tutto il supporto che potete dargli, dategli tutto quello che potete dargli Perché è un ragazzo che merita e merita davvero, aiu, mi raccomando Ciao Luca Io sono Veronica e oggi voglio parlarvi di un canale molto valido Quello di Luca Ranzani Lui intervista appunto dei talenti E molti di questi da quando lui li aveva intervistati appunto sono in dati famosi Come Johnny Scandal, Il Pagante Beh, se volete vedere altre interviste dovete iscrivervi assolutamente al canale Perché ce ne saranno molte altre E voglio dirvi che io supporto tantissimo questo canale Ma non perché sono sua amica Ma secondo me è veramente valido Beh, che mi resta da dire, iscrivetevi ancora al canale Guardate tutti i video che volete Mettete mi piace e seguite Luca Ranzani perché ce ne saranno delle belle Un bacio Grazie, io sono un'amica di Luca E lo conosco da tanti anni Ormai da quando il canale era proprio all'inizio E quindi ho visto proprio la nascita E l'evolversi poi del canale Tutte le persone che sono passate La crescita anche di Luca Che è stata molto incisiva E niente, a me questo canale piace molto Luca ha fatto un'intervista pure a me E io mi sono trovata molto a mio agio Non solo per il fatto che è mio amico Ma anche perché è molto professionale in quello che fa E niente, abbiamo visto passare qualsiasi cosa Qualsiasi persona di qualsiasi genere Musicale, artistico di qualsiasi tipo Come mi ricordo fotomodelle Ragazze immagine, rapper Ora anche con Cristian Imparato Stiamo collaborando Quindi andiamo anche un po' sul pop, sul contemporaneo E niente, è nato come un canale per intervistare appunto rapper E invece poi è stata un'escrescenza di cose bellissime E speriamo che appunto andremo avanti Sempre più su, sempre più in cima Perché Luca è quello che si merita Un abbraccio, seguite intervistare Volevo un attimo spendere due parole per il canale di Luca Ranzani Volevo dire che è un ottimo canale Offre spazio a tutti E ci sono veramente delle cose molto interessanti Quindi mi raccomando Seguitelo in molti Un abbraccio ancora a Cristian Imparato Ciao, grazie Ciao ragazzi Mi è stato chiesto di fare questo video da Luca Ranzani E quindi eccomi qua Volevo dirvi che Lui è una grande persona Che è un ottimo amico C'è sempre E' una persona che tutti dovrebbero conoscere Ed è proprio come lo vedete nei video Del canale Posso dire che piano piano Sta prendendo molta più forma Che sta andando E spero che continuerà a andare Aumenteranno le visualizzazioni Mi piace E tutto Mi raccomando voi Continuate a seguirci E non vi deluderà sicuramente E basta che dire Stop Ciao a tutti Direi che E' molto figo E' nuovo Secondo me Quindi grande E Cioè Non è che sia nuova La roba delle interviste Però comunque La roba di Insomma Fare Intervistare così In giro Andare da ognuno di Questi artisti Ci sta Quindi continua così Grazie Noi ti ringraziamo E alla prossima Big up Allora